La campagna elettorale per le europee, tra le liste in corsa, il partito pirata, forza nuova, il popolo della famiglia, le loro proposte nel servizio di Mario De Pizzo. Il popolo della famiglia punta sui diritti civili, tra le proposte e l'abolizione dell'unione civile e del divorzio breve. Altro obiettivo, combattere la crisi demografica con l'istituzione di un reddito di maternità. Riconoscere mille euro al mese alle mamme nei primi otto anni di vita del bambino.